Voglio ricordare ai cittadini le condizioni nelle quali abbiamo dovuto lavorare con lo stop alle assunzioni e un equilibrio di bilancio raggiunto solo nel dicembre dell'anno scorso, mentre continuiamo a buttare a mare ogni anno 600 milioni di euro di interessi per pagare i debiti pregressi. Vincenzo De Luca ribadisce che sarà in campo alle prossime elezioni regionali. Nel consueto appuntamento settimanale sull'Iratev il governatore snocciola i risultati conseguiti in questi anni a Palazzo Santa Lucia e Rivendica abbiamo fatto un miracolo. Se anche il governo regionale della Campania fosse distratto dalla politica politicante, buonanotte, che ce ne andremo a mare. Rimaniamo attenti ai problemi e alle cose che si risolvono. Ci prepariamo in questo modo anche alla prossima campagna elettorale, nella quale ovviamente mi presento chiedendo ai nostri concittadini di far proseguire il lavoro immenso che abbiamo avviato in questi anni. Devo sempre ricordare, e lo farò nei prossimi mesi, qual è la condizione nella quale abbiamo dovuto lavorare e lavoriamo in Campania. Intanto i 5 Stelle ancora non hanno sciolto la riserva sulle alleanze e sulle candidature. Il sottosegretario alla difesa, Angelo Tofalo, a margine di un evento alla provincia di Salerno, ha fatto sapere che non sarà lui il candidato in Campania e che il suo impegno continuerà nel governo.